Allora diamo il benvenuto a Cosmos Kinaia, country ed Italy di Fidelity International al quale vogliamo chiedere innanzitutto una prima valutazione sul 2019 e poi parallelamente, dato che il tema di quest'anno del salone è quello della sostenibilità capire come interpretate questa tematica? Ma il 2019 per Fidelity è partito molto molto bene probabilmente perché nel 2018, che è stato un anno particolarmente complicato dove tutte le asset class hanno riportato rendimenti negativi e soprattutto la volatilità è tornata a fare capolino la nostra franchise, la nostra gamma fondi ha performato molto molto bene soprattutto perché i gestori fondamentali come Fidelity fanno bene proprio in questa situazione di mercato e questo chiaramente ha portato i nostri partner, i nostri distributori ma anche i clienti finali a darci fiducia e quindi a investire sui nostri fondi Per quanto riguarda il tema dominante di questo salone del risparmio del 2019 quindi il tema della sostenibilità che è più focalizzata in generale sui temi diciamo di impatto sociale, ambientale e di governance Fidelity è molto più focalizzata sulla GDSG cioè sulla governance perché un gestore attivo come Fidelity può impattare realmente a livello ambientale e sociale soprattutto andando a lavorare sulla governance con il management delle imprese quindi la sostenibilità per noi è soprattutto governance ma in linea generale la sostenibilità è anche un tema di investimenti nel lungo periodo perché quando la volatilità è così forte dobbiamo tornare ad essere focalizzati sull'orizzonte di investimento allungare l'orizzonte di investimento, diversificare ed è l'unica ricetta per poter andare a conseguire quei risultati che tutti i nostri investitori si aspettano